Noi siamo le pietre, le pietre di tutti i tempi e di tutti i luoghi. La nostra voce riecheggia immortale sul mondo e racconta la vita, passato e presente. Cosa raccontano le pietre dei faraoni? Cosa raccontano le pietre della grande muraglia? Le pietre dei greci e dei romani? Le pietre dei tempi e delle case? Le pietre dell'arte e del lavoro? Cosa raccontano le pietre della terra di Sicania? Della terra dei ciclopi? Dove ci accomuna ad ogni impasso la stessa storia? Cosa raccontano le pietre della terra del sole fulgente? Dove ci accomunano gli stessi sentimenti, gli stessi costumi, le stesse tradizioni, la stessa sede di giustizia, la stessa voglia di progresso? Dove ci formarono le stesse esperienze? Dall'Etna maestosa alla colta Palermo, da Messina a Cefalù, da Catania ad Augusto, a Siracusa, a Enna, da Segesta a Tindari, a Taormina, che ci videro protagoniste di forme d'arte eccelse. Cosa raccontano le pietre di gioiosa guardia di Calavà? Vici guerra d'Aragona, un castello fabbricò, e vicino a Ducastello un paese si formò. Vici guerra d'Aragona, un castello fabbricò, e vicino a Ducastello un paese si formò. Sopra la torre in Ducastello si vedeva tutto mare, vici guerra d'Aragona si affacciava a Pimbardari. Sopra la torre in Ducastello si vedeva tutto mare, vici guerra d'Aragona si affacciava a Pimbardari. Si vedeva di lontano le galerie sopra mare, di Lutur con l'invasore verso terra navigare. Si vedeva di lontano le galerie sopra mare, di Lutur con l'invasore verso terra navigare. Sopra la torre in Ducastello si affacciava a Pimbardari. Lutur con l'invasore, di Lutur decina signora, vici guerra d'Aragona non avvi di più paura. Dalla Chiesa a tutti quanti laudriamo in Cinochioni, ma di nozza proteggiti l'u paese e l'Iversone. Dalla Chiesa a tutti quanti laudriamo in Cinochioni, ma di nozza proteggiti l'u paese e l'Iversone. Dalla Chiesa a tutti quanti laudriamo in Cinochioni,